Non sarà un Memorial Pantani uguale a tutti gli altri, poiché questo sarà il Memorial Pantani nel decimo anno della scomparsa del Pirata e nel primo anno della riapertura del processo per la morte dello scalatore romagnolo. Dunque sarà una corsa particolare, inserita in un contesto passionale e in un periodo fondamentale della stagione, poiché a ridosso del Mondiale o di Ponferrada. Per ricordare nel migliore dei modi Marco Pantani l'undicesima edizione del Memorial, la prima fu disputata nel 2004, pochi mesi dalla scomparsa del Pirata, partirà e arriverà a Cesenatico, ossia la città della famiglia del vincitore del Giro e del Tour del 1998. Il resto del percorso manterrà alcuni punti fermi partendo dai due circuiti cittadini di Montevecchio e di Cesenatico. Se l'ultimo sarà pianeggianti, invece il primo circuito sarà caratterizzato da una salita, quella omonima di Montevecchio, con punte anche del 15% che i corridori dovranno affrontare per tre volte complessive. Prima dell'ingresso a Cesenatico ci sarà un altro strappetto presso Longiano, al via avremo le stesse tre formazioni World Tour del Trittico Lombardo, vale a dire la Lampre, la Cannone e la Stana. In conclusione, non sarà una giornata come tutte le altre, ma sarà la giornata per eccellenza, perché Marco è ancora qui, di fianco. A noi!